18 maggio per i commercianti di Campobasso, ovviamente non solo, Campobasso è come se fosse il primo gennaio 2020, perché per tanti il 2020 inizia proprio oggi. L'ora X è scoccata a ricordare che la quarantena è finita. Questa mattina ci ha pensato il rumore delle saracinesche che sono tornati ad alzarsi. Vetrine tirate a lucido, negozi sanificati e organizzati nel dettaglio per rispettare la normativa anti-covid. Il Molise riparte con tanta voglia di farcela. Mi sembra un po' il primo giorno di scuola, però sì, con tutte le dovute precauzioni ovviamente, come vedi ci siamo organizzati, i guanti in monouso per i clienti che vogliono comunque avvicinarsi ai capi, toccarli. I capi si possono provare, sì, 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 ovviamente ripeto, tutti muniti di tutte le, insomma, cortezze, sì, mascherine e guanti. Igenizziamo i camerini ogni qual volta escono i clienti. Mi auguro veramente per tutte le attività che ci sia la ripartenza. Stamattina c'era un po' di attesa spasmodica e devo dire che è più confortante vedere tanta gente in giro nuovamente. Io credo che se tutti quanti adottiamo le misure richieste, voglio dire, necessarie, dovremmo essere in sicurezza, voglio dire. Se adottiamo tutti la distanza e la mascherina non credo che ci siano grossi problemi. Quindi io spero che si possa uscire e spendere a campo basso, non sul web. Io prego alla cittadinanza di lasciare i soldi in città perché in questa maniera l'economia può ripartire. Bisogna spendere in loco. Non ti nascondo che dopo la quarantena sono tornato a svegliarmi molto molto presto proprio perché, come hai detto tu, c'era una sorta di ansia da primo giorno di scuola. Quindi ovviamente è accompagnata la gioia di ripartire. Lo facciamo con più entusiasmo di prima perché tanto abbattersi non servirà e non serve a nulla e a nessuno. Proviamo a migliorare tutti i servizi che abbiamo all'interno della nostra attività. Ovviamente attenendoci a tutte le normative che ci hanno suggerito ed imposto. Abbiamo accompagnato, seppur non obbligati, a una segnaletica orizzontale per garantire un distanziamento tra i clienti, delle barriere protettive tra noi e l'utente, proprio perché anche noi dipendenti dobbiamo essere al sicuro e tutelati. Ovviamente saremo pronti ad accogliere qualsiasi altra iniziativa. L'importante è che si riparte e colgo l'occasione per fare un augurio a tutti i colleghi, concorrenti, commercianti, perché mai, come in questo momento, è importante fare gruppo, fare squadra e tornare a vincere tutti insieme. È dura. C'è niente da fare. Possiamo fare tutto quello che volete. Una alla volta, distante, un metro, un momento di distrazione, cambia tutto. Ma non c'è cattività, non perché uno fa cattività, è estintivo. Cerchiamo di ripartire al meglio, ce la mettiamo tutta e cerchiamo anche di essere ottimisti, nonostante la situazione sia quella che è. Ovviamente molti matrimoni sono stati spostati all'anno prossimo e cerchiamo comunque di tenerci in contatto con le spose di quest'anno e cerchiamo di fare del nostro meglio per poter soddisfare qualsiasi richiesta da parte appunto di queste spose che hanno dovuto purtroppo rimandare il loro matrimonio. Beh, non è nascondo che dopo due mesi di chiusura è stato bello perché avere un negozio è come avere un figlio. Abbandonare il proprio figlio per due mesi non è stata una cosa bellissima, però ripeto, sono ottimista. Perché è il giorno della riapertura, dobbiamo ripartire e mi auguro che come me tutti gli altri negozianti, i commercianti di Campobasso abbiano questo spirito di ottimismo perché altrimenti non si potrebbe continuare. Invece ci credo e vogliamo farcela, ce la faremo. C'era anche il sindaco di Campobasso questa mattina che ha voluto salutare i commercianti del centro urbano ed augurare loro ovviamente un buon inizio, una buona ripartenza, ricordando ad ognuno, ma non soltanto ai commercianti, ai piccoli imprenditori, anche ai cittadini, la necessità sempre del rispetto delle regole. C'è voglia di ripartire, insomma mi auguro anche che con la giusta prudenza non ci sia però questo timore, questa paura. Quindi ben venga, ben venga che appunto si cominci a rianimare la città, a rifrequentare i negozi, anzi ne approfitto per fare un appello. Cerchiamo adesso di spendere i soldi facendo un po' meno ricorso ai negozi online, all'e-commerce, ma cerchiamo di concentrare la spesa a cui questo principio varrebbe sempre, ma ora più che mai è importante che i nostri soldi restino sul territorio. Se siamo bravi il 2-3 giugno, che poi sarà il momento in cui si valuteranno gli effetti di questa riapertura, almeno da un punto di vista sanitario, chiaramente l'obiettivo è di non tornare indietro. Oggi torniamo liberi di andare dal parrucchiere e anche al ristorante, di fare shopping e incontrare gli amici, ma tutto deve avvenire in sicurezza perché il virus ha fermato la sua corsa e il lockdown ha funzionato e lo ha circoscritto, ma non è sconfitto. Se facciamo errori e ci comportiamo in modo irresponsabile, tornerà a colpirci. Quindi più libertà vuol dire adesso più responsabilità e più attenzione quando siamo con gli altri. E questa è la parola d'ordine della fase 2. Grazie a tutti.